Villa Valenca è un incantevole gioiello architettonico immerso nella Francia corta, che offre una cucina di altissima qualità per un matrimonio indimenticabile. Qui trascorrerete momenti emozionanti e avrete la garanzia dei migliori servizi per il vostro ricevimento. Questa splendida dimora dispone al suo interno di un immenso salone finemente arredato, nel quale si respira una raffinata atmosfera che renderà unico ed esclusivo il vostro banchetto di nozze. La struttura è circondata da un ampio parco con giardino all'italiana e con una grande piscina. Esso diventa la cornice suggestiva ed elegante per i vostri ricevimenti all'aria aperta nelle stagioni più calde dell'anno. Inoltre, agli sposi che lo desiderano, il parco permette di allestire emozionanti cerimonie all'aperto, rendendo lo scambio delle promesse un momento romantico e carico di magia. Un personale di grande esperienza e professionalità sarà al vostro fianco per aiutarvi nell'organizzazione dell'evento che sempre avete desiderato. Si prenderà cura di voi sposi e dei vostri ospiti con un servizio d'accoglienza cordiale e competente e vi farà sentire i protagonisti di una giornata davvero speciale. La dimora dispone di un servizio di ristorazione interno che preparerà per voi un menu ad hoc che rispetti i vostri gusti personali e le esigenze dei vostri cari. Sarete deliziati da portate genuine e ricche di gusto e offrirete ai vostri commensali un banchetto di nozze dai sapori unici il quale contribuirà alla perfetta riuscita del ricevimento. Dalla cerimonia alle danze che seguono il banchetto e fino al pernottamento nella meravigliosa suite per la prima notte di nozze presso Villa Valenca vivrete momenti di pura magia. Grazie a tutti.